Chiariamoci, smart working non è telelavoro. In un mondo imprevedibile, in cui è davvero complicato fare previsioni a lungo termine, lo smart working è la bussola che orienta le aziende verso il futuro. Rappresenta un simbolo di adattabilità, spingendo le imprese a innovare, rimanere agili, sostenibili, mentre alcune resistono, temendo perdite di controllo, quelle che abbracciano realmente lo smart working ridefiniscono obiettivi e pratiche, creando un nuovo paradigma lavorativo basato sul raggiungimento di obiettivi, non sulle ore lavorate per raggiungerli. Non sappiamo cosa ci riserverà il futuro, ma le nuove generazioni, senza dubbio, hanno una particolare sensibilità verso l'equilibrio tra lavoro e vita privata e penso che lo smart working sia la chiave per andare incontro a questa necessità, ma deve cambiare tutto il paradigma del lavoro. Rock and roll! Rock and roll! Grazie a tutti.